Stop and Goal porta la magia del calcio a casa tua. Conclusione al volo! Splendida di Simone Zazza! Divertiti con la nostra squadra. Ciao ciao! Con i commenti live dai campi. Quello che ci sa sempre da migliorare. Le curiosità dal mondo del pallone. Vi dà vent'anni che non sapeva un tedesco all'Inter. Il bello dei campionati stranieri. Ma soprattutto perché... Il gol prima di tutti? Sono solo qui da noi. Iguali! Porta vuota! Iguali! L'appuntamento è per domenica alle 17.15 con Stop and Goal. Perché per vedere tutte le reti ti basta una sola rete. Cielo!